Siamo in una gita enogastronomica, in quel di Deglio oggi, dove fanno molto bene il vino e l'olio. E adesso per Gusto, canale 5, il signor Matteo Lenci ci spiegherà le caratteristiche del vino. Beh ecco, abbiamo questo vinillo bianco, il classico della Liguria, del colore baglierino, il profumo dell'utato, con qualche tintore di mora, andando a sentire, ecco il tatto è molto ricco, è profumato, quasi di miele, dolce, insomma, una contenta malattia.